E' in fermento il popolo del centro-sinistra per le primarie che definiranno il candidato a premier in vista delle politiche del 2013. Anche ad Asti, come in tutto il territorio nazionale, fervono i preparativi per questa competizione elettorale che il 25 novembre chiamerà le urne i tesserati delle forze politiche raggruppate nella coalizione Italia Bene Comune. Cinque sono i candidati, di questi tre hanno tessera del Partito Democratico, ossia Pierluigi Bersani, Matteo Renzi e Laura Puppato. In corsa anche Nichi Vendola, di Sinistra Ecologia Libertà, e Bruno Tabacci, di Italia Concreta. Qui nell'Astigiano il coordinamento provinciale sarà composto da Francesca Ferrari, segretario provinciale del PD, Enzo Sobrino, della segreteria regionale del SEL, e da Domenico Grassi, responsabile per il Partito Socialista Italiano e da un delegato per ciascun candidato. Da questa settimana saranno inoltre in funzione gli uffici elettorali per la consultazione dell'albo degli elettori. Qui, prima del voto, sarà possibile sottoscrivere il pubblico appello di sostegno ed il relativo riconoscimento della carta di intenti. Ad Asti sarà possibile firmare nella sede del Partito Democratico in piazza Statuto, al numero civico 1, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, e dalle 16 alle 18.30, oppure nella sede di Sinistra Ecologia Libertà di Corso Matteotti, dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì. Nel frattempo la politica comincia a schierarsi all'interno del PD, con Bersani sono schierati tra gli altri il parlamentare Massimo Fiorio, l'ex sindaco Vittorio Voglino, l'ex assessore Mauro Trivelli, il medico nutrizionista Giorgio Calabrese, oltre all'assessore comunale Marta Parodi, il sindaco di Nizza Flavio Pesce e il consigliere comunale cannellese Fausto Fogliati. Sostengono Matteo Renzi, invece, la consigliera regionale Angela Motta, l'ex consigliere provinciale Roberto Peretti, l'architetto Maurizio Pugliese, Giorgio Ferrero, Claudio Casaleggio, oltre all'ex presidente di Gaia Mauro Paracchino.